Si chiama Colin Griffith, è un ragazzino di solo 17 anni di età, il quale pensate che avrebbe ucciso, avrebbe fatto fuori la madre che si chiamava Catherine Griffith, di solo 39 anni, l'avrebbe dapprima colpito al collo, poi avrebbe chiamato la polizia dando la colpa ad un mero incidente. Il ragazzino agli inquirenti avrebbe detto, è inciampata, si è infissata da sola, dopo un po' gli agenti hanno fatto un'ispezione della casa, non hanno creduto alla versione del ragazzino e quindi lo hanno tratto in arresto. Già un anno fa era finito in carcere perché avrebbe ucciso il padre sempre a colpi di pistola, c'era sempre un genitore però questa volta a colpi di pistola. Fu proprio la madre a farlo uscire pagando circa 50.000 dollari di cauzione e a quel tempo provò a giustificarsi parlando di una legittima difesa. Le accuse furono ovviamente molto pesanti, furono ritirate, non si poteva procedere per una legittima difesa e poi diciamo che è stato messo in libertà. Beh, ringrazio per l'ascolto e per la visione, poche ore prima di morire, la madre pensate che la pubbia è una cosa con la compagnia del figlio. Una vicenda veramente incredibile, azzato dire. Una buona serata a voi e un caro salutone, posso tanto dire, Katherine Griffith, che tu possa riposare in pace. Amen.